salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo del secondo acquisto del nuovo benevento amedeo benedetti classe 91 difensore firma un contratto biennale con opzioni per il terzo anno con il club giallo rosso conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera cresci nel settore giovanile del chiamo verona ma non giocherà mai in prima squadra viene ceduto subito in prestito alla pro patria in serie c dove gioca 28 presenze e una rete e un assist nel 2011 viene ceduto al pisa sempre in serie c dove in due stagioni collezione 52 presenze 2 gol e 6 assist nel 2013 viene ceduto a lumezzane sempre in serie c dove in due stagioni collezione 46 presenze 2 gol e ben 14 assist nel 2015 viene ceduto al cittadella sempre in serie c dove in sette stagioni collezione a 170 presenze 4 gol e ben 25 assist vincendo anche un campionato di serie c nell'ultima stagione è stato a pordenone sempre in serie c dove collezionato 33 presenze 0 gol e 4 assist come caratteristiche tecniche benedetti può giocare come terzino sinistro terzino destro esterno di centrocampo a 5 sia a destra che a sinistra può giocare anche come mezzala di centrocampo a centrocampo un terzino veloce abile a saltare l'uomo è molto bravo a fornire assist e che dire alla fine benedetti è un grande acquisto per il nuovo benevento un giocatore di esperienza di qualità che fa la differenza in serie c che sposte l'equilibrio in serie c è un giocatore che la serie c gli sta stretta meriterebbe una serie b ma anche una discreta serie a è un leader forte che spero possa riportare il benevento in alto e soprattutto riportare il benevento dove merita e lo speriamo ritorni al più presto che dire ragazzi un grande saluto ci vediamo in un prossimo video è sempre forza benevento